La Quarta Commissione Legislativa del Consiglio Provinciale ha analizzato oggi l'iniziativa popolare con 15.000 firme per l'abolizione dell'obbligo vaccinale, mentre la Giunta ha deciso sulle regole di accesso alle scuole dell'infanzia per il nuovo anno scolastico. Tanto basta per portare in Piazza Magnago a Bolzano un centinaio di genitori per un flash mob contro l'imposizione dei vaccini. Naturalmente non possiamo abolire l'obbligo vaccinale, non si discute neanche, però noi diciamo che tutti i bambini devono avere accesso agli asili perché è competenza provinciale. Mamma è disposta ad andare al muro contro muro pur di non vaccinare i propri figli chiedendo maggiore responsabilità. Io sono una mamma, io non posso andare a lavorare se i miei figli non possono andare all'asilo, al Chimagati. Cosa devo fare? Finiremo nella povertà, non posso più pagare l'affitto. Cosa devo fare? Io chiedo alla politica cosa devo fare perché, non so, se la strada è costringermi a vaccinare i miei figli contro 10 malattie quando in effetti di malattie ce ne sono milioni e milioni, qualcuno mi spieghi, qualcuno si prenda la responsabilità e mi dica chi prende la responsabilità dovessero avere i miei figli dei danni da vaccino perché parliamo di numeri, di statistiche, ma io parlo dei miei figli, qualcuno mi dice, qualcuno dei medici vaccinatori, dei politici che prenda la responsabilità e dica succede qualcosa a tuo figlio, la prendo io la responsabilità, faccio tutto io, pago tutto io, mi occupo di tutto io, allora per favore faccia, mi firmi un foglio. Al microfono un'organizzatrice chiede alla stampa più rispetto, evitando di trattare il movimento contro il gruppo vaccinale come un gruppo di persone fuori di senno, rivendicando la propria preparazione. Nel frattempo in piazza c'è anche chi divulga tesi che stupiscono. Questa cosa è una violenza contro i diritti umani perché con la vaccinazione ogni persona riceve un microchip e può essere seguito ogni passo. A lei chi l'ha detta questa cosa del microchip? Io su al colping di Merano ho incontrato per caso due medici, non so come si chiamano, e questi mi hanno spiegato questa cosa. Lei è sicuro? Ma io sono sicuro, non saprei perché motivo mi avrebbero raccontato bugie. Non le sembra irreale come prospettiva? Contato due anni fa mi sono vaccinato contro le malattie. Quindi lei ha il microchip? Ovviamente sì. Durante la protesta i genitori hanno lasciato che i loro bambini dessero libero sfogo, in piena libertà, di colorare, scrivere e disegnare sull'asfalto di Piazza Magnago. Necessaria quindi una pulizia dei ghirigori a carico della collettività. Grazie. Grazie.